Questo è l'interno della palazzina, come potete vedere è un piero terra rialzato e si accede da questo coltone. Entrando sulla sinistra abbiamo l'angolo cottura soggiorno, come potete vedere il mobile è ristrutturato, proseguendo sulla sinistra c'è il bagno anch'esso ristrutturato con doccia. Accanto al bagno vi è la camera da letto. Grazie. 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 Grazie.